Allora, cominciamo. Gli ultimi umani devono essere da queste parti. Aspettate. Arrivano. Cos'è una station wagon color mattone del 1993? Chi sono quei guerrieri inarrestabili? Siamo i Mitchell, gli unici che possono salvare il mondo. Super, super scusa a tutti. Mi voglio presentare. Sono Katie, un tipo strampalato. I miei genitori non mi hanno ancora capita. A dire il vero, neanche io mi sono capita fino in fondo. Mio fratello, strampalato. Salve, vuole parlarmi dei dinosauri? No, ok, grazie. Anche mia madre. Cupcake con faccia di Katie. Lo siamo tutti. Perché non mettiamo via i telefoni e ci dedichiamo a dieci secondi in cui ci guardiamo negli occhi tra noi in famiglia? A partire da adesso. Vedete, è bello così. È molto naturale. Ogni famiglia ha le sue difficoltà. Guarda, non abbiamo una bella foto di famiglia da anni perché voi due litigate sempre. Per la mia famiglia, la sfida più grande... Direi l'apocalisse dei robot. Attenzione a tutti i robot! Catturare fino all'ultima persona sul pianeta! Ma giù! Cosa farebbe una famiglia efficiente adesso? Formazione a farfalla! Allora facciamo quello, giusto? Chi c'è dietro? Palla! Io ti ho dato conoscenza senza limiti e tu in cambio mi hai trattato così! Tocca! Tocca! Striscia! Tocca! Pizzica! Zoom! Siamo le ultime persone rimaste. Allora sta a noi salvare il mondo. Katie, noi lo faremo. Insieme! Famiglia Mitchell al tre! Famiglia Mitchell! Oh, scusi! Uno! Famiglia Mitchell! Trovateli! Subito! Tutto quello che ha un chip di computer è vivo! Delicati! Asciuga i pieghi! Guarda e piccina! Mitchell di iniziare! Dieci a due! Vai così! Mia figlia mi ha ascoltato! I Mitchell sono sempre stati strani. È quello che ci rende gra... Aspetta un secondo. Cos'è? Cos'è un Furby? Ma chi l'ha costruito? Scappate! E' una cosa che gli hanno trazione? Scusate? È un hack! È un hack. È un hack. Qu'è? Qui. Qui.